Una struttura sportiva moderna a disposizione delle società calcistiche pugliesi per preparare squadre regionali giovanili, formare e abilitare tecnici e dirigenti, organizzare corsi didattici per giovani calciatori, cercare nuovi talenti pugliesi. E il centro tecnico federale che sorgerà sull'area dell'antistadio a Tigua San Nicola di Bari sarà gestita dalla FIGC. La convenzione, firmata con il Comune alla presenza tra gli altri del Presidente regionale FIGC Tisci, prevede, oltre al miglioramento e ampliamento del campo su cui si allena il Bari, la realizzazione di un secondo campo in erba artificiale con tribuna e impianto di illuminazione. Tre ettari complessivi e un primo investimento della Federcalcio di 750 mila euro. Sulla consegna dei lavori l'assessore San Nicandro confide in due, al massimo tre mesi. Si tratta del quarto centro tecnico federale in tutta Italia. La strada della Lega prevede 20 centri sul territorio nazionale, in modo che i giovani possano confluire, fare delle preparazioni con il centro tecnico di Coverciano per evitare questa completa importazione di giovani di tutte le parti del mondo. Non è casuale la scelta di Bari grazie alle ottime condizioni di viabilità e accessibilità. Primo passo verso il percorso di riqualificazione dell'area intorno allo stadio San Nicola. In questa maniera alleggeriamo la gestione complessiva dello stadio e avviamo quel percorso di ampliamento dell'utilizzo dello stadio San Nicola.